Buonasera, benvenuti alle dispense di CEPPA, indirizzo, storia dell'arte contemporanea. Diventa contemporaneamente storia dell'artista con CEPPA, corso accelerato di futurismo. Un Homo Sapiens si rivolge alla Mulier Sapiens e al Filius Sapiens proponendo questa cosa. Perché? Non ce ne andiamo un po' in vacanza, andiamo a vedere qualche terra che non conosciamo, magari incontriamo qualcuno di nuovo, sempre le stesse facce, e i suoi familiari rispondono entusiasti sì, sì, andiamo, andiamo, i 448 fanno i bagagli, fanno la loro valigia, ci mettono dentro la clava, dei sassi, una pietra rotonda con un foro al centro che ancora non sanno bene a cosa funzioni, però secondo l'Homo Sapiens è il caso di portarla con sé, e vanno, vanno, vanno. E chi ti incontrano? Una famiglia di uomini di Neandertal, che si rivolgono a loro con questo linguaggio sconosciuto. Zang, tumb, tumb! Gli Homo Sapiens si guardano, vuol dire, ma guarda un po' quante se ne incontrano qua, andando in giro, se si rimane a casa si vedono sempre le stesse cose. E questo è turismo, però non adesso, tantissimo tempo fa, quindi non è turismo, fu. Buonasera.